Ultimi giorni di attività per gli ambulanti del mercato dell'erbe all'interno del chiostro San Domenico nel pieno centro storico di Pesaro. Un complesso storico del 1200 che sarà sottoposto ad ampio lavoro di restyling a cominciare da venerdì 12 gennaio. Lì partirà il cantiere da circa 8 milioni di euro di riqualificazione di questo complesso, il che significa che gli ambulanti devono trasferirsi. Si trasferiranno nella vicina via Gavardini ma si tratta comunque di un cambiamento storico perché questo mercato esiste dal 1861. Alcuni decenni fa c'erano 30 ambulanti qui, ora si sono ridotti a 6 e una smobilitazione che è già cominciata e che si completerà giovedì pomeriggio. Da venerdì la nuova attività in via Gavardini che rappresenterà comunque un cambiamento epocale per queste attività e per i tanti clienti affezionati del centro storico. Dai un po' siamo emozionati, un po' siamo tristi perché dopo 25 anni che ho il banco qui, andare via un po' piange il cuore. Però dai, accettiamo la novità, pensiamo positivo. Siamo pronti a questo nuovo cambiamento, speriamo che funzioni tutto e che i clienti ci seguano, questa è la cosa fondamentale. Per il resto ci stiamo un attimino attrezzando e contiamo di essere là sabato probabilmente come riapertura del mercato. Dal San Domenico alla vicina via Gavardini si trasferiranno in questi spazi a partire da venerdì 12 gennaio gli ambulanti del mercato dell'erbe per una novità che ha trovato un punto di convergenza fra le esigenze del comune di Pesaro e quelle degli stessi commercianti. L'importante è comunque essere rimasti in centro, questo è molto importante. Alternative non ce n'erano al momento però insomma, dai, diciamo che ci piace insomma. Meglio non poteva andare, va bene così, speriamo che i nostri clienti ci seguano.